al giornalista della Gazzetta che vedo qui e lo ringrazio per l'attenzione che pone sempre che in realtà dobbiamo stare attenti perché la cosa importante e interessante di quello che sta accadendo è che noi vediamo il vertice, ma in realtà sono dei veri e propri iceberg, quelli sportivi che stanno in qualche modo emergendo nella nostra città, perché dietro davvero si sente spesso parlare del progetto, qui il progetto c'è, è vero, lo dimostra la pallavolo, lo dimostra la pallanuoto, lo sta dimostrando il rugby, lo dimostrerà speriamo sempre di più il calcio, il voerole che appunto sta riscuotendo dei risultati straordinari, ma siete voi in qualche modo gli sportivi quelli che danno la possibilità poi alla fine a qualcuno di emergere, perché è dalla grande capacità e possibilità che c'è di poter svolgere liberamente lo sport, perché diciamo la verità, certo puoi vincere ad altri livelli quindi è bello, però è bello fare sport, bisogna partire secondo me...